Il Comune di Ispica favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative. Attraverso la democrazia partecipata, i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di Ispica possono presentare proposte progettuali su tematiche di interesse quali ambiente e territorio, sviluppo economico e turismo, aree verdi, politiche giovanili, attività sociali, scolastiche ed educative, attività culturali, sportive e ricreative. L'importo totale destinato in bilancio è pari a 15.000 euro per un importo per singolo progetto non superiore al 30%. Le proposte e i progetti sono stati valutati nella loro fattibilità da una commissione formata da tutti i capi settore secondo criteri ben precisi. La scelta finale spetta alla cittadinanza che sarà messa nelle condizioni di esprimere una preferenza votando in modo libero e pubblico uno dei progetti ammessi e pubblicati. Sono 20 i progetti presentati, ricordiamo che si può votare nel periodo tra le ore 12 del 18 giugno 2020 e le ore 18 del 23 giugno 2020. Si può votare in modo libero e pubblico tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto tramite consegna a brevi mano al protocollo generale, tramite email all'indirizzo democrazia.partecipatachiocciolacomune.ispica.org.it indirizzata al domicilio digitale del comune di Ispica indicato nel sito istituzionale indicando nell'oggetto democrazia partecipata tramite servizio postale. In quest'ultimo caso farà fede per le presentazioni la data di accettazione del plico da parte dell'ufficio postale e comunque dovrà pervenire al protocollo generale del comune entro il quinto giorno successivo alla scadenza riportata nell'avviso. Questi 20 progetti presentati Giuseppe 4.500 euro. Aule in sicurezza di Mingo Andrea 4.500 euro. Installazione di un parco giochi o un piccolo parco avventura per bimbi nella zona marina di Marza di Doettinger Alexandra 1859,55 euro. Yoga dell'età evolutiva di Spadaro Natalia 3850 euro. Realizzazione di una vetrina condivisa e cogestita per l'esposizione di artigianato locale, prodotti tipici e materiale promozionale delle imprese del territorio con annesso Infopoint multimediale di Affefabio 4.400 euro. English in the Future di Favara Maria Antonietta 4.000 euro. In Maruna di Piazza Sant'Antonio di Cappello Giorgio 3.000 euro. Ritorna la musica di Lucenti Gianluca 2.500 euro. Sono con te di Lorefice Salvatore 4.500 euro. Ispica classica stagione concertistica di Gianni Angela 4.500 euro. Turismo scolastico di Rustico Alessandra 3.500 euro. Il teatro è vita diamogli spazio di Di Rosa Concetta 4.500 euro. Valorizzazione area mulino dei tre ladri di Ruffino Marco 4.500 euro. Segnaletica turistica di Ruffino Marco 1.404 euro. Città pulita di Ruffino Marco 2.000 euro. Aula studio profumo di Solarino Maria Rosita 4.306 euro.